Per costruire gli ideogrammi hanno trovato questa soluzione semplicissima, hanno combinato insieme, più pittogrammi, quindi per dire bello, buono, piacere, hanno preso, lassù ci vedono bene due, donna e bambino, queste donne e bambino sono qui accanto, quando li vediamo insieme, combinati in questo modo insieme, si legge piacere, bello, buono, per i verbi hanno messo l'albero, questo è l'albero e l'uomo accanto, quindi un uomo sotto l'albero riposato, poi invece un altro motivo, perché è una forma d'arte, è il modo in cui si scrive, è che vi mostrerò la corteccia del vino, viene bruciata la corteccia, raccolta la coligine e poi, resa solido attraverso un abido, si versa dell'acqua in una pietra apposta, una pietra simile alla nostra lavagna, in Liguria, con un po' d'acqua, con questo bastoncino, si, il pelo è solitamente di capra, pelo naturale di animali, e l'impugnatura è questa qui, il braccio è sempre sollevato dalla carta, come si pogge in questo modo qua, e utilizza il gesto decisivo, qui è scritto albero, ogni tratto ha una variazione di pressione, come dicevo prima, utilizzando questa postura qui, col cuscino per il mio cuscino, busto eretto, il braccio parallelo al piano, e lavora con gesti di questo tipo, muovendo un po' tutto il corpo, quindi è un'arte gestuale che colpoge tutto il corpo, però soprattutto, come dicevo prima, non potendo ripassare, costruire il tratto come da noi, da noi poggiare il colpoge, una forma più razionale, avere un controllo più razionale, in questo modo qui, questo modo qui piace fare un riferimento tipo a un sismografo, lui registra, un sismografo che per quanto devono vedere se ci sono intervenuti, è un po' così, per tutti i nostri interiore che abbiamo, passa in questo modo qui, che se io sono nervoso e tremo la mia mano, si vede qui e non posso correggerla, perché devo andare dritto, perché devo fare uno, due, questo è un tratto, richiede un gesto, un movimento spontaneo, nella forma gestuale, è un'arte, come dicevo prima, che è quella che è più vicino a noi, in Occidente, ciò che hanno fatto l'arte informale, se conoscete Pollock, Hartung, in America c'è stata una corrente che ha utilizzato il gesto, il segno, hanno molto fatto riferimento anche allo Chodot, però la differenza è questa, che qui quello che noi scriviamo non sono dei segni completamente individuali, frutto di un, come per Pollock, quando lascia cadere il colore dal barattolo, crea delle forme completamente sue, individuali, qui invece quello che creiamo noi ogni volta sono delle parole non decise, il calligrafo scrive alcune parole, due o tre o una poesia.